ebbene si ragazzi finalmente è arrivata la nostra mini mini torcia o light scopriamo intanto la scheda tecnica riportata sul retro 90 lumens di potenza 45 minuti di autonomia raggio di luce 44 metri e la possiamo far cadere da un metro e mezzo di altezza non subisce danni impermeabile misure ragazzi sbalorditive soli 6 centimetri e mezzo per 1,4 centimetri di diametro veramente è leggerissima 19 grammi e mezzo fantastiche ragazzi ma apriamo insieme questa è la versione black lava la colorazione fantastica rossa e nera della i3 e eos apriamola eccola qui guardate che torcetta ragazzi guardate che bello veramente veramente un gioiellino già dal tatto posso dirvi che è piccola piccolissima potente ma robusta un materiale ben fatto bellissima veramente molto molto ben fatta comoda da portare in qualsiasi occasione caccia pesca in bicicletta in passeggiate veramente veramente fantastica la racchiudo con tre aggettivi qualità prestazioni e prezzo imbattibile ragazzi infatti vi sarà dato in omaggio per i nuovi iscritti sul canale della olight store punto it per il vostro primo ordine altrimenti dopo arriverà dopo il 29 novembre su intorno ai 15 euro ciao a tutti